Il nuovo battitore Lexion. Come vedrete, questo non è più il battitore di una 600Q. Qualcosa è cambiato, qualcosa è diventato più grande. Ora abbiamo una nuova dimensione, i nuovi organi trebbianti APS SynFlow Walker. Abbiamo creato nuovi organi trebbianti tangenziali, abbinando gli organi APS ad un cilindro di separazione addizionale. E questo è solo uno dei nostri cinque punti di forza. Il secondo punto di forza sono i controbattitori regolabili parallelamente. Abbiamo un flusso quasi lineare del prodotto e almeno il 25% in più di potenza di trebbiatura e separazione. Ma la macchina a cinque scuotipaglia ha la stessa superficie di controbattitore della 6 scuotipaglia attuale. Un altro punto di forza da non sottovalutare è la regolazione sincrona dell'APS e del numero di giri del battitore. E diversamente dalla concorrenza sincronizziamo anche il cilindro di separazione. La nuova spranga di sgranatura del controbattitore è ad azionamento idraulico. La spranga è ribaltabile tramite comando idraulico dalla cabina. I primi organi trebbianti ha regolazione variabile. Ecco un altro tema ricorrente, la versatilità nel campo di mais. Si allentano due viti, si estrae il controbattitore, si prende quello nuovo, lo si inserisce e lo si blocca. Tutto qui. In futuro tutte le macchine a scuotipaglia avranno la pulizia Jetstream, Lexion 5500 TT, Dynamic Cooling, Dynamic Power. Viene erogata solo la potenza effettivamente necessaria per il processo di trebbiatura. Lexion 6900, la mietitrebbia a scuotipaglia più moderna e più grande del mondo. Facile da regolare. Qui ho il C-Motion, piattaforma di taglio, organi trebbianti e qui avete sette pulsanti. Confort a volontà per tutti. Spranga del controbattitore, deflettori, tutto comandabile comodamente dal sedile dell'operatore. CEMOS Automatic. Analizza gli organi della mietitrebbia e ne modifica anche le impostazioni in modo da lavorare sempre in modo ottimale. Salgo comodamente su questa scaletta. Abbiamo integrato una scala nel serbatoio cereale. La 5-Squotipaglia diventa la macchina 5000, la 6000, 6-Squotipaglia e per le ibride il 7 sta per telaio da 1420 mm e la macchina 8000 per telaio da 1700 mm. La più grande macchina ibrida da 1,42 m. 13.500 litri di serbatoio cereale, 549 cavalli, qui con scarico da 180 litri al secondo. Motori Mercedes-Benz e tutte le macchine che in precedenza avevano un Perkins monteranno ora anche un MAN. Due cinghie e due catene in meno e la trasmissione a rotori è sulla sinistra. Innesto e disinnesto silenzioso del cambio, manutenzione ridotta e facile. Abbiamo davanti a noi il modello APS SYNFLOW HYBRID. Abbiamo ingrandito notevolmente il cilindro lanciatore. Possiamo così distribuire la paglia più uniformemente su entrambi i rotori. Abbiamo modificato le griglie dei rotori. Infatti ora sono aperti e con design a dita per una maggiore capacità di separazione. Cochle e più grandi e elevatori più grandi recupero. Lexion 8900. Velocità di scarico di 180 litri al secondo. Un serbatoio cereale di 18 metri cubi. Larghezza di taglio di 13 metri 80, 790 cavalli. La miti trebbia più grande al mondo presente oggi sul mercato.